Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e il consigliere segretario Lorenzo Leardi hanno ricevuto martedì 13 marzo una delegazione di sindaci di comuni, presidenti e responsabili di consorsi socioassistenziali di tutte le province piemontesi per affrontare il problema delle risorse per l'assistenza alle fasce deboli. La delegazione ha evidenziato le gravi difficoltà nel garantire i livelli essenziali dei servizi in seguito ai tagli del 30% operati dal governo nazionale. Il presidente Cattaneo ha assicurato che l'ufficio di presidenza del Consiglio si farà carico di sollecitare all'assessore alla sanità dei momenti di confronto con tutti i soggetti in particolare sindaci e gestori di consorsi.